Nel giro di qualche mese migliorano. Peso, statura, piedi, circonferenza cranica, vista, udito, sviluppo, psicomotorio. Sono tanti gli aspetti della salute di un bambino che vanno verificati da uno specialista nel corso dei primi anni di vita. A parlarne ad una platia di 50 genitori attenti e interessati, è stato il pediatra Gabriele Tonelli nell'ambito del primo incontro del corso per neogenitori, intitolato La salute del bambino da 0 a 5 anni e organizzato dalla BCC di Fanno nell'oratorio di Sant'Orso. L'incontro, gratuito per tutti i soci, è stato dedicato al tema bilanci di salute, visite periodiche effettuate dal pediatra e previste da un programma di sorveglianza sanitaria al fine di prevenire o di cogliere segni di patologie serie e invalidanti. Tante le domande rivolte a Dottor Tonelli, l'obiettivo del corso è proprio quello di dare l'opportunità ai neogenitori di confrontarsi con degli esperti per trovare risposte ai tanti dubbi che li assalgono, Anche un genitore, infatti, può rendersi protagonista della sorveglianza sanitaria del suo bimbo ponendo domande chiave che aiutino a far emergere segnali di eventuali problemi di salute come quelli relativi alla vista e all'udito. L'iniziativa promossa dalla BCC nasce per rispondere a un'esigenza espressa dai genitori incontrati nell'ambito dell'evento Banca e Famiglia, cerimonia di assegnazione del bonus bebè. Da 2010 la banca ha premiato più di 1500 neonati. I prossimi appuntamenti sono in programma per il 10 e il 17 settembre e saranno tenuti rispettivamente dalla Dottoressa Lisa Tonelli che affronterà il tema delle malattie intercorrenti e dalla Dottoressa Anna Lisa Pedini che tratterà il tema della prevenzione dell'obesità. Per facilitare la partecipazione è previsto anche un servizio di babysitting per i fratelli più grandi, ma per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a soci-fano.bcc.it